Hai presente quello che facevamo un po' tutti durante il lockdown? La stessa routine ancora e ancora. Dormire, stare al cellulare o al pc, videogiochi, tv... Ecco, il protagonista di questa storia per un periodo ha vissuto così. Ma oltre a tutto questo, donava anche centinaia di migliaia di dollari ad una camgirl. Un modo di vivere decisamente particolare, che con il tempo lo ha reso il protagonista di una vera e propria tragedia. Questa è la sua storia. Ciao, belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e di spegnere le vostre webcam, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Devo chiedervi scusa prima perché oggi la mia voce è strana, perché sono stato male, sto ancora un po' male, però non potevo non registrare questo video. E ora capirete il perché. Ma ultima cosa, e poi cominciamo veramente, vi ricordo che su Pampling trovate tutte le magliette che indosso nei video e tantissime altre cose davvero fighe. Quindi alla fine del video vi consiglio di andare a dare un'occhiata, guardare un po' se c'è qualcosa che vi piace e se volete prenderla vi ricordo di inserire il codice Andrew che vi darà anche delle calze a scelta in omaggio. La storia che voglio raccontarvi oggi vede protagonista un'intera famiglia e principalmente uno dei figli. Quello che vi ho detto nell'introduzione è soltanto un minuscolo spiraglio nella vita di questa persona. In realtà le cose accadute sono molto più oscure e come vedrete tra poco vi accompagnerò in questo vortice di oscurità e morbosità senza precedenti. Credo proprio che sia la storia più agghiacciante che abbia mai raccontato qui. Ora quindi partiamo con ordine. Ogni nucleo familiare nasconde dei segreti, degli scheletri nell'armadio che non dovrebbero mai essere rivelati. E ce li ha anche la famiglia Amato. E oggi anche noi faremo parte di questa famiglia. Quindi scopriremo dall'interno tutto quello che mai nessuno avrebbe dovuto scoprire. Diamo il via alle presentazioni. La famiglia Amato vive al 2112 Sultan Circle a Chuluta in Florida. L'intero nucleo familiare è composto dalla mamma Margaret, dal marito Chad e dai loro tre figli. Chad e Margaret sono felicemente sposati e fanno di tutto per essere degli ottimi genitori. E devo dire che ci riescono alla grande. Il maggiore dei figli si chiama Jason, ma è nato da un precedente rapporto tra la madre Margaret e un altro uomo. È stato comunque preso sotto l'ala di Chad. Gli altri due figli invece sono effettivamente nati dal loro matrimonio. Abbiamo Cody, nato nell'87, e Grant, nato nell'89. Vivono tutti insieme, tranne Jason, nella città di Chuluta. Una piccolissima cittadina di porto definita rurale. Rurale. Non lo so dire. La classica cittadina insomma dove non succede mai nulla. È un posto perfetto per crescere una famiglia. Il luogo ideale se ci pensiamo. E questo è proprio quello che cercavano gli Amato. Con un po' di sacrifici sono riusciti nel loro intento. E sono diventati una famiglia unita, amorevole e forte. Possono quasi fare concorrenza alla famiglia del mulino bianco per intenderci. E non sto scherzando. È la classica famiglia perfetta. Ma lo sappiamo bene tutti. La perfezione non esiste. Nel 2019, l'anno in cui si svolge tutta questa storia, Jason, il maggiore dei figli, vive a Winter Springs. Lavora come sottoscrittore di mutui ipotecari. Ed è quello più distaccato da tutti, diciamo. I coniugi Chad e Margaret Amato sono stati da sempre una coppia fedele e dei gran lavoratori. Chad, per esempio, è un farmacista presso la CVS Health. E ha una fortissima passione per i computer. Si autodescrive come un guru dei computer autodidatta. Come me. Porta a casa dei bei soldi per la famiglia. Infatti sono riusciti a permettersi una vita piuttosto agiata. Non eccessivamente lussuosa, ma più che sufficiente e dignitosa. Anche la mamma Margaret ha una carriera lavorativa di un certo spessore. È una Senior Operations Manager, non chiedetemi che cavolo sia, presso la Nuance Transcription Services. Come suo marito ha anche lei una passione. E sono gli animali, più precisamente i cavalli. Nel tempo libero, infatti, Margaret sta al Miracle Lane Stables per prendersi cura di Lady, un ex cavallo da corsa che aveva salvato nel 2009. Margaret è una donna gentile e premurosa, dotata di una certa sensibilità. E le fanno pena anche gli animali maltrattati, ovviamente. Adora la sua Lady, anche se tentando di salirla in groppa è caduta parecchie volte. La cosa che più le dispiace è che questo cavallo venisse maltrattato in passato, appunto. Perciò fa di tutto per darle una vita migliore. Anche al momento della sua morte, lei continua a prendersi cura degli animali. Sì, purtroppo Lady è morta. E quindi, boh, possiamo finire qui il video per me. A parte gli scherzi, la casa degli amato è spaziosissima. Ha quattro camere da letto e si trova su un terreno di più di un ettaro. Diecimila metri quadri, ragazzi. Comunque, avendo lavorato per tutta la vita, Chad e Margaret hanno recentemente acquistato anche una casa nel Tennessee. Hanno in programma di trasferirsi proprio lì, una volta andati in pensione. E mi sta tornando in mente la storia di Tom e Jackie Hawks. E pensandoci, non so se sia quella o questa qui la più triste. Ma ci arriviamo. Comunque, come avete visto, abbiamo tante informazioni sulla vita di queste persone. Essere un membro degli amato è una cosa fantastica. Perché tutti loro, figli compresi, sono davvero uniti. Condividono tutto e hanno anche varie passioni in comune. Per esempio, a tutti loro piace il calcio. E hanno anche partecipato a varie partite di soft air. I fratelli di sangue, Cody e Grant, sono come migliori amici. Fanno davvero tutto insieme, condividendo svariate passioni. Come quella per i computer, che è stata trasmessa dal padre. Entrambi hanno persino frequentato la stessa scuola, la Timber Creek High School. Dove facevano parte della squadra di sollevamento pesi. E quando si sono diplomati, Cody e Grant si sono iscritti entrambi alla facoltà di infermieristica, sperando di specializzarsi come infermieri anestetisti. Sono inseparabili e hanno un programma molto preciso per il loro futuro. Sperano entrambi di acquistare un BMW e di vivere nella casa di famiglia. In poche parole aspettano che i genitori vadano in pensione per avere quella grande casa tutta per loro. E stanno persino studiando per il lavoro che vogliono fare. Infatti, Cody è riuscito già a trovare qualcosa. Da come ve l'ho descritta, sembra tutta una situazione perfetta. Una famiglia perfetta e un futuro perfetto. Dove il tempo, le ambizioni e i soldi non mancano affatto. L'amore in casa c'è e c'è sempre stato. Ma le cose iniziano a cambiare nel 2018. La passione per i cavalli della mamma Margaret, per esempio, si trasforma presto in un antistress. Perché in casa si inizia a respirare una certa tensione pericolosissima. Grant e Cody frequentano dunque la scuola per infermieri e si qualificano. Ma mentre Cody ottiene buoni voti ed eccelle praticamente in tutto, Grant ha diverse difficoltà. Fa più fatica a stare dietro al programma, ma alla fine riesce a qualificarsi lo stesso. Come da programma, entrambi si iscrivono a un corso specialistico per diventare anestesisti. Cody supera il corso, ma Grant no. Il piccolo della famiglia passa quindi un periodo davvero difficile. Ma non è ben chiaro il perché. Forse la pubertà o la delusione delle sue aspettative hanno giocato un ruolo importante. Teorizzando un po', forse si è dispiaciuto di aver avuto così tante difficoltà nel suo percorso di studi. Magari è geloso di suo fratello Cody, perché invece lui ce l'ha fatta facilmente. Il punto è che Grant, in quel periodo, entra in un vortice davvero spaventoso, che trascinerà l'intera famiglia nello sconforto e nella tensione. Le sue ansie e i suoi problemi stanno velocemente contaminando la pace e l'armonia che si respirava prima. Per farvi capire meglio la questione, immaginate l'inizio del romanzo di Frankenstein, dove si vede la famiglia del protagonista perfetta sotto ogni aspetto, e che poi si rovina a causa della follia di uno dei membri, quello che ha creato il mostro che tutti noi conosciamo. Ecco, immaginate Grant come se si fosse scollegato dai suoi parenti e si fosse isolato in un mondo tutto suo. Non sta creando un mostro in carne ed ossa, è lui a diventare sempre più un mostro. Nel giugno 2018, Grant sta lavorando come infermiere nell'Advent Health di Orlando, ma viene licenziato a causa del suo pessimo comportamento. Ha rubato dei farmaci anestetici, precisamente il Propofol, un farmaco che ha una pessima fama, specialmente per la fine che ha fatto fare a Michael Jackson, ma ha rubato anche altri farmaci. Grant è stato quindi addirittura arrestato per un breve periodo. Viene accusato di furto aggravato e di somministrazione impropria di farmaci ai pazienti. Interrogato dalle autorità, afferma di aver somministrato quei farmaci ai pazienti perché non erano adeguatamente rilassati, secondo lui. Come risultato del suo licenziamento e di tutto questo casino, Grant diventa sempre più isolato e depresso. Come vi ho detto prima, suo padre gli aveva trasmesso la passione per i computer, e infatti comincia a passare le sue giornate rinchiuso nella sua stanza davanti allo schermo. Come me. Io come Grant. No, scherzo quel cazzo. La sua routine diventa letto-computer-cucina, cucina-computer-letto. E poi ricomincia da capo il giorno seguente. Passa molto tempo a giocare ai videogiochi e inizia anche a fare delle dirette live su Twitch. Lo fa perché vuole provare a rimediare un nuovo lavoro su quella piattaforma. Purtroppo però le cose non vanno molto bene e pare non riuscire mai a spiccare o rendere in generale lo stream una fonte affidabile di guadagno. Oltre a livello mentale, Grant inizia anche a soffrire a livello fisico. Il suo peso corporeo precipita in maniera spaventosa. Inizia quasi a sembrare come un cadavere, con occhiaie pronunciate e pelle mortalmente pallida. Diventa uno scheletro ambulante. Ovviamente sono condizioni che derivano dal suo stato mentale. Uno stato mentale che attribuirei alla depressione. Quindi parliamo di una situazione patologica. E sappiamo tutti cosa può accadere quando un disturbo non viene curato. Ne abbiamo viste tante di storie in cui appunto alcuni disturbi non vengono curati adeguatamente. E sappiamo come sono finite. Ma io non sono uno psichiatra quindi non farò diagnosi. Continuiamo. Grant sui social ovviamente non mostra questo suo lato malato. Anzi si dipinge come un giocatore professionista e un ricco scapolo. Dice di avere una casa tutta sua e di guidare un BMW. Se ci pensiamo bene queste sue bugie sono esattamente la rappresentazione dei suoi desideri. Il percorso di vita che avrebbe voluto intraprendere. I suoi amici online non hanno proprio idea che in realtà Grant è un ex infermiere disoccupato di ormai 29 anni, da poco licenziato, che è stato arrestato e che vive a casa dei suoi genitori. Come detto prima, la famiglia non gli fa mancare nulla. Non stanno messi male a livello economico e cercano di stargli vicino. Ma è evidente che nessuno si sia reso conto di cosa c'è dentro la testa di questa persona. Oltre a condurre questa vita pigra, illusoria e fatta di bugie, Grant ha per la mente un'altra passione. Una passione che lo spingerà a compiere un gesto imperdonabile. Ogni notte, Grant passa diverse ore in siti per adulti e viene attratto, anzi stregato, da una donna di nome Silvia Vensislavova. Dovrei averlo detto giusto? Una webcam model bulgara che Grant chiama Silvi. Silvi diventa presto la persona più importante della sua vita. La guarda ogni notte su un sito che non penso di poter spiegare in cosa consiste. Comunque questo di certo non sembra essere una cosa preoccupante. Guardare donne o uomini in video e foto erotiche non è certo un reato. Il problema in questa storia è che Grant si ossessiona a Silvi. Ne diventa così tanto, tanto infatuato che la guarda costantemente ogni notte, spendendo una valanga di soldi. Una fonte riporta questa informazione. Guardare Silvi costa 90 gettoni al minuto. Grant acquista 5.000 gettoni per volta, l'equivalente di 600 dollari ogni volta. Il ragazzo però non si limita solo a questo. Va letteralmente fuori di testa per lei e le invia anche degli oggetti come vestiti succinti o giocattoli erotici. Naturalmente la webcam model è contenta di ricevere tutte queste attenzioni e regali, ma non sapeva che in realtà i soldi del suo più accanito ammiratore non erano suoi. Grant infatti si può permettere tutte queste spese folli perché deruba letteralmente suo padre e suo fratello Cody. Per farvi capire la follia di questa ossessione, Grant in soli tre mesi sperpera 200.000 dollari per Silvi. I genitori ovviamente non sono scemi e si accorgono presto di essere stati praticamente derubati, ma come scusa Grant dice che quei soldi li ha spesi per promuoversi come giocatore professionista su Twitch. Una sorta di investimento. Però cazzo, con 200.000 dollari in pubblicità diventi il nuovo MrBeast. Invece pare che i risultati per lui non arrivassero. Tutti questi soldi mancati comunque alla famiglia pesano. Pensate che Chad, il padre, è costretto a contrarre una seconda ipoteca sulla loro grande casa. È un periodo in cui sono quindi pieni di debiti per colpa di Grant. Sia per le questioni legali per cui era stato arrestato, sia per questa sua nuova ossessione. Ma nel dicembre del 2018 la situazione sembra migliorare un po'. Le accuse di furto aggravato vengono ritirate e in aggiunta a ciò Cody, Grant e un altro amico fanno un viaggio in Giappone. Il nostro amato Giappone. Che cura ogni male. No dai scherzo. Grant voleva visitare il Giappone da sempre. Per cui questo viaggio lo fa riprendere un po'. E più vi racconto la storia di Grant e più mi rendo conto che io sono molto simile a lui. Tranne per il fatto delle webcam girl. Per il momento, no. Comunque dicevamo che è stato suo fratello Cody a pagare tutte le spese. Quasi 10.000 dollari tra volo e lo stare lì. Quel viaggio è stato come un staccare la spina. Come un fermare questo vortice di depressione e pericolose ossessioni online. Eppure, per quanto fosse tutto fantastico, La magia del Giappone dura poco per Grant. Al rientro in casa, Grant litiga quasi ogni giorno con suo padre per il fatto che ancora non ha e non vuole trovare un lavoro. Dopo una discussione particolarmente accesa, il 19 dicembre, Grant scappa di casa e manda un messaggio a sua madre dicendole che era davvero stanco di tutto e che avrebbe da ora in poi gestito meglio la sua vita a modo suo. Sua madre Margaret, però preoccupatissima perché conosce le condizioni del figlio, denuncia immediatamente la sua scomparsa. E si scopre presto che Grant si era rifugiato a casa di sua zia, Donna Amato, che vive ad Apopka, in Florida. La zia Donna, Donna è il nome, racconta che in quei giorni sua nipote Grant era scarno ed esausto. E ha quindi trascorso lì l'intera giornata dormendo e l'intera notte sveglio. Non molto tempo dopo l'arrivo di Grant, però, Donna nota degli addebiti misteriosi sul suo conto in banca e scopre in poche parole che il ragazzo le ha letteralmente rubato l'accesso ai suoi conti. E tutto questo per continuare a guardare Sylvie e a donarle soldi su soldi. Il padre, Chad, adesso è più furioso che mai, ma Donna lo implora di non denunciare Grant. Gli propone piuttosto di farsi restituire i soldi da suo fratello Cody. Lo so ragazzi, la situazione è tremenda, è un vero casino. Grant sta distruggendo la sua famiglia dall'interno e nessuno sembra essere in grado di aiutarlo come si deve. Possono solo fermarlo e pagare per i suoi errori. Ovviamente nessuno di loro lo vuole dietro le sbarre, ma occorre trovare una soluzione al più presto perché il ragazzo sta peggiorando e cadrà sempre più in basso se nessuno è pronto a tirarlo su. Così l'intera famiglia Amato si riunisce in casa il 22 dicembre 2018. Spiegano gentilmente al ragazzo che ha bisogno di aiuto. Chad, Margaret e Cody lo portano così in un centro di riabilitazione a Fort Lauderdale. Grant, malgrado tutte le sue follie, si iscrive volontariamente a un programma di 60 giorni per la dipendenza da sesso e pornografia. Ma come per il viaggio in Giappone, anche questa soluzione purtroppo non funziona. Grant abbandona il programma dopo circa due settimane. E indovinate un po', anche questa volta è suo fratello Cody a dover pagare quella clinica. Si parla di 15.000 dollari. Il 5 gennaio, poi, avviene un evento importante. Forse il più importante. Come si dice, la goccia che fa traboccare il vaso. Chad, il padre, porta a pranzo suo figlio Grant al California Pizza Kitchen di Waterford Lakes. Al ristorante, Chad tira fuori dalla tasca un elenco di regole scritto a mano e dice a Grant che deve assolutamente rispettarle se vuole continuare a vivere nella casa di famiglia. Se vuole tornare tra le braccia dei suoi genitori e dei suoi fratelli, allora deve, obbligatoriamente, attenersi a dei paletti. Le regole gli impongono di smettere di passare tutta la notte online e di trovare al più presto un lavoro. I suoi genitori, poi, non avrebbero più pagato la sua bolletta del telefono e, inoltre, avrebbe dovuto ripagare i debiti con la famiglia e tornare in terapia. In aggiunta a tutto ciò, anche se è ovvio, Grant non avrà più il permesso di comunicare con Sylvie. Se mai fosse stato beccato, sarebbe stato immediatamente cacciato di casa. Su questo punto il padre di famiglia è stato incisivo e irremovibile. Anche perché, mentre Grant era in riabilitazione, il padre aveva contattato Sylvie e le aveva spiegato che tutti i soldi che aveva ricevuto da suo figlio erano rubati. In questo modo, prova ad assicurarsi che anche lei prendesse le distanze. In tutto ciò, durante quella chiacchierata, cedda l'ultimatum. Se non avesse accettato queste regole, lo avrebbe mandato nell'esercito. Non è chiaro se Grant avesse accettato questa precisissima condizione oppure no. Sta di fatto che da quella chiacchierata non ne esce affatto felice. Un odio profondo inizia a ribollire dentro di sé ed è pronto ad esplodere una volta per tutte. Quello che sta per accadere è peggio di quanto possiate immaginare. Passano i giorni. È il 25 gennaio, quindi non troppo dopo quella famosa chiacchierata. Quel giorno Cody non si presenta a lavoro. Lavorava all'Orlando Regional Medical Center, un ospedale, e i suoi colleghi trovano la sua assenza molto strana. Cody non è mai arrivato in ritardo a lavoro e sanno che non aveva preso un giorno libero. Quindi, preoccupati e molto probabilmente coscienti della sua situazione in famiglia, chiamano subito la polizia. Chiedono loro se un agente può effettuare un controllo presso casa Amato. Ed è presto fatto. Alle 9.17, l'agente Todd Moderson arriva in quella casa insieme ad un collega. Però, nonostante i numerosi tentativi di attirare l'attenzione di qualcuno all'interno, nessuno risponde. Quindi contattano il supervisore e lo informano della situazione. Poco dopo, ottengono il via libera, cioè il permesso di rompere in casa. E, forzando la porta laterale con un coltello, fanno i primi passi al suo interno. Quello che trovano li lascia senza parole. Sdraiato sulla porta tra la palestra di casa e il garage, in una posizione semifetale, c'è proprio Cody. È vestito con il suo camice da infermiere e ha una grande ferita sotto l'occhio. A circa un metro e mezzo da lui, giace una pistola. Cody è lì. Per terra. Senza vita. Ma la cosa davvero terrificante è che gli agenti non hanno ancora visto nulla. Proseguono con l'ispezione e arrivano in cucina. Lì, Chad Amato è riverso a terra, a faccia in giù. Anche lui, privo di vita. Indossa una fondina sul fianco, con dentro una pistola. Margaret Amato, invece, la madre di famiglia, si trova nel suo ufficio, sempre dentro la casa, accasciata sulla scrivania. Pure lei non respira più. È stata colpita una volta alla testa. Grant Amato, tuttavia, l'ultimo figlio rimasto, non si trova da nessuna parte. Il figlio maggiore, Jason, da anni vive da tutta altra parte. Ma Grant? Che fine ha fatto? Provano a chiamarlo al cellulare, ma senza ricevere risposta. Chiamano quindi la scientifica per portare via i corpi e fanno arrivare gli investigatori per analizzare la scena del crimine. Ovviamente la notizia fa subito scandalo. Un'intera famiglia è stata decimata senza pietà e uno di loro è scomparso. Le ricerche per trovarlo vengono svolte in tempi rapidissimi. E già la mattina dopo, il 26 gennaio, gli investigatori lo rintracciano in un Double Tree Hotel. Gli chiedono di andare alla stazione di pulizia per un interrogatorio e lui acconsente senza problemi. Durante quel dialogo i detective notano che Grant è molto rilassato. Parla con loro della sua passione per i videogiochi e dello streaming. Non perde tempo, però, a lamentarsi della sua famiglia. Inizia una lamentela dietro l'altra. Descrive suo padre Chad come un uomo sempre arrabbiato prepotente, fisicamente violento nei confronti di sua madre Margaret, suo fratellastro Jason e su di lui. Queste presunte violenze sarebbero successe in gioventù. Ma non parla di suo fratello Cody. Dice agli investigatori che aveva speso molti soldi di suo padre per parlare con Sylvie. Ripensando alla quantità di denaro che ha speso, denaro che non era suo, Grant ammette agli investigatori di essere stato uno sciocco. In un certo senso si pente della sua ossessione per quella ragazza. Dice anche che suo padre aveva hackerato il suo computer mentre si trovava in riabilitazione e aveva ottenuto l'accesso ai suoi tabulati telefonici, nonché al contatto di Sylvie. E le aveva spiegato la verità su di lui e sui soldi rubati. Infine racconta che suo padre Chad lo aveva assillato per cercarsi un lavoro e spiega che ad ogni ritorno a casa ne seguiva una litigata. Ogni giorno sempre la stessa storia. Gli investigatori, dopo questa chiacchierata lunghissima, trovano sorprendente una cosa in particolare. Dopo ben tre ore di interrogatorio in cui Grant si libera e parla di tutto, non chiede minimamente cosa fosse successo alla sua famiglia. E non chiede neanche perché quei poliziotti lo avessero condotto lì. Quindi, sempre durante l'interrogatorio, gli investigatori mostrano a Grant le foto della scena del crimine. A questo punto diventa visibilmente emotivo. I detective gli fanno pressione, ma lui nega di averli ridotti in quello stato. Risponde loro più o meno così. Non so chi li ha uccisi. Sono stato incolpato di tutto ultimamente e ho cercato di andare avanti in una direzione positiva. Ogni giorno mi vengono in mente tutti i problemi che ho causato e continuo a sentirmi dire la stessa cosa più e più volte. Che non c'è niente che io possa fare per cambiare. In quella stanza arriva presto anche il fratellastro Jason e inizia ad implorarlo di dire la verità. Grant però continua con la sua versione e Jason li lascia dicendo che pregherà per lui perché non può più farlo per gli altri che non ci sono. Comunque, essendo Jason uno degli ultimi membri rimasti della famiglia, viene interrogato anche lui. E indovinate un po', ha un alibi di ferro. Allora gli investigatori decidono di fare ancora più pressione su Grant. Capiscono che il ragazzo non la racconta giusta ed è palese che nasconda qualcosa. Quella che vi dirò adesso è la sua versione dei fatti. Il 24 gennaio 2019 dice di essere stato a casa tutto il giorno per prepararsi ad un colloquio di lavoro. Quando suo padre è tornato a casa da lavoro, è diventato ostile nei suoi confronti perché lo ha beccato parlare ancora con Sylvie usando Twitter sul cellulare di Margaret, sua madre. Dice che aveva avuto il permesso di usare quel telefono proprio perché glielo ha dato Margaret. Chad allora lo avrebbe afferrato per la maglietta e gli avrebbe detto di uscire di casa. Grant quindi ha fatto le valigie, dopodiché lui e suo padre Chad sono rimasti nel vialetto a parlare per un'altra ora e mezza, più o meno. Chad gli ha quindi dato una carta di credito da usare quella notte per una camera d'hotel. Poi Cody sarebbe tornato a casa. Grant ci ha parlato un attimo e ha poi salutato tutti prima di andarsene. A quel punto erano tra le 12 e le 12 e 30 del 25 gennaio. Quella, secondo lui, sarebbe stata l'ultima volta che ha visto la sua famiglia viva. Grant dice poi di essere andato in un negozio di alimentari e di aver usato il wifi per trovare il luogo del suo colloquio per la mattina seguente. Poi si è addormentato nella sua macchina, si è svegliato verso le 6 e 45 ed è andato al colloquio. Per quanto tutto quello che ha raccontato sembri verosimile, alla fine, il 28 gennaio, Grant è stato arrestato e accusato di tre capi di imputazione per un misoglio premeditato di primo grado. Un'accusa gravissima. Ma lui si è dichiarato non colpevole di tutte e tre le accuse. È stato trattenuto presso la prigione della contea di Seminol su una cauzione di 750 mila dollari. Gli è stato impedito di utilizzare i fondi della proprietà dei suoi genitori e non è stato in grado di pagare da solo la sua stessa cauzione. Ma non è finita, ragazzi. Il suo processo ha inizio il 23 luglio 2019. Se condannato per tutte le accuse, potrebbe affrontare l'ergastolo o addirittura la pena di morte. La sua dichiarazione e la sua versione dei fatti vengono portati in aula, ma in contrapposizione viene presentata dall'accusa una sequenza temporale dei fatti completamente diversa. Sentite. Grant avrebbe trascorso il 24 gennaio a casa con sua madre, Margaret, ed è provato grazie ad un'attività sul suo computer alle 16.44. Si deduce dalle varie prove che Grant abbia sparato a Margaret intorno alle 16.45, mentre era seduta alla sua scrivania. Alle 17.25, l'app Salute sull'iPhone di Chad lo ha registrato mentre faceva 67 passi, quindi per 27 minuti non c'è stata alcuna attività sul suo telefono. Ciò potrebbe indicare che Grant abbia tolto la vita a suo padre non appena è entrato in casa. Vi ne è anche detto che il primo colpo alla testa di Chad non lo avesse ucciso. C'era infatti una scia di sangue sul pavimento che suggerisce che avesse cercato di trascinarsi dopo essere stato colpito la prima volta, ma purtroppo un altro colpo gli è arrivato in testa e lo ha spento per sempre. Alle 17.52 l'iPhone di Chad è stato sbloccato e le impostazioni del telefono sono state modificate in modo che il telefono rimanesse sbloccato. Ed è infatti rimasto così fino a dopo la mezzanotte. Grant avrebbe quindi aspettato in casa con due cadaveri all'interno che suo fratello Cody tornasse da lavoro. Dopo tante ore, intorno alle 21.15 del 24 gennaio, Cody ha fatto ritorno ed è riuscito a malapena entrare prima che suo fratello gli spasse dritto in faccia. Una vicina di casa ha sentito degli spari tra le 20.30 e le 21.30. Non sapeva esattamente quanti colpi fossero, ma pensa a meno di 5. Alle 23.32 una chiavetta con oltre 600 foto e video di Sylvie è stata inserita nel computer di Grant. Questa chiavetta sarebbe stata successivamente trovata dagli investigatori nella tasca dei jeans del ragazzo. Alle 23.39 l'iPhone di Cody è stato connesso al computer di Grant ma il ragazzo non è riuscito a superare i controlli del cellulare. Tre minuti dopo il telefono è stato messo in modalità di ripristino. A mezzanotte 08 è stato effettuato l'accesso all'app della banca di Chad utilizzando la sua impronta digitale. Gli investigatori hanno notato che l'indice destro di Chad era meno sanguinante delle altre dita. Il che suggerisce che fosse stato ripulito dal sangue proprio per accedere a quell'app. Alle 2.54 del mattino Grant ha avuto accesso al wifi di un negozio e alle 3.06, pensate un po', ha pagato 599,99 dollari per riaprire il suo account nel sito delle Cam Girls. Quindi pare che, secondo l'accusa, Grant abbia tentato di mettere in scena una sorta di omicidio-sucidio. Ma una delle domande, tra le tante, che mi sono posto leggendo questa storia è come ha fatto a sparare i suoi genitori? Dove ha trovato l'arma? Ebbene pare che in casa ognuno dei membri della famiglia avesse la propria arma. Ecco perché il padre è stato trovato con la fondina. E ha anche cercato di difendersi in un certo senso. Anche se bisogna dire che il pubblico ministero ha teorizzato che Grant avesse messo la pistola sul fianco destro di Chad nel tentativo di far sembrare che ci fosse stato uno scontro tra Chad e Cody. Quindi una sorta di messa in scena per far sembrare che fosse stato Cody ad uccidere la famiglia per poi uccidersi. Tuttavia, quella era una fondina a estrazione incrociata. Il che significa che Chad, che era destro orso, avrebbe dovuto indossarla sul fianco sinistro e non sul destro, dove era posizionata invece quando è stato trovato. Insomma, tutta questa vicenda è davvero un casino da analizzare al processo. Il ragazzo però sembra non avere alcuna scusa. Il processo in generale è costellato di situazioni che non fanno altro che mettere in cattiva luce Grant e il suo ingiustificabile operato. Ci vorrebbe quasi un video dedicato per quello che gli è successo al processo, ma sappiate che, tra vari testimoni, simulazioni e prove portate in aula, Grant pare non avere speranze. A peggiorare le cose per lui, l'accusa facendo ad una sorta di lettera che aveva scritto ai suoi amici online. Nella lettera virtuale, scritta quando ha lasciato la riabilitazione, fa delle rivelazioni. Fino a quel momento aveva mentito su chi fosse e su quello che aveva, ma in quel momento dice ai suoi amici che li aveva presi in giro per tutto il tempo. Esprime anche la sua rabbia nei confronti della sua famiglia, per tutta una serie di motivi. In primo luogo dice di essere sconvolto dal fatto che lo avessero mandato in riabilitazione, ma quello che gli dispiaceva di più era che avevano parlato con Sylvie e avevano rivelato anche a lei tutta la verità su Grant. Anche in questa lettera ha descritto suo padre come un uomo controllante e violento, ma ha avuto da ridire praticamente su tutti. Queste sono alcune delle sue parole. Vedere Sylvie così felice senza di me nella sua vita è qualcosa che spero voi ragazzi non dobbiate mai vivere. È una sensazione che ti strappa il cuore e mi fa capire quanto sia tutto inutile senza di lei. L'unico fratello rimasto, Jason, ha testimoniato per l'accusa riguardo i rapporti tra i membri della famiglia nei mesi precedenti agli omicidi. È stata una testimonianza cruciale. Jason ha raccontato alla corte dell'ultimatum che Chad aveva dato a Grant e anche dell'elenco di regole che doveva seguire se voleva continuare a vivere con loro. Jason è profondamente amareggiato per quello che è successo. Aveva visto i suoi familiari da poco prima di tornarsene lontano dove abita lui e sapere di essere l'unico sopravvissuto della famiglia amato insieme all'assassino che è suo fratello lo riempie di rabbia e di profonda tristezza. La difesa di Grant fa quel che può e sinceramente leggendo con attenzione tutto quello che hanno detto pare proprio palesemente falso. Hanno messo in piedi una difesa che fa acqua da tutte le parti. Eppure su una cosa sembra aver azzeccato l'arma del delitto non si trova. In buona sostanza questo è l'unico appiglio su cui possono effettivamente basarsi ma sembra che non sia servito a molto. Questo perché il 31 luglio 2019 dopo 8 ore di deliberazione la giuria ha ritenuto Grant amato colpevoli di un video premeditato di primo grado. Il 12 agosto 2019 la giuria ha condannato Grant all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale il che significa che evita la pena di morte e pare averla evitata per un soffio. Grant amato è attualmente incarcerato presso il Madison Correctional Institution nella contea di Madison in Florida. Tutte le persone che sono state vicine alle vittime ricordano Chad, Cody e Margaret con sincero affetto e ricordano come persone perbene gentili e disponibili. Molti credono che la famiglia amato non si meritasse un figlio come Grant il quale ha letteralmente rovinato tutto. Anche se, non per giustificarlo sia chiaro questo folle gesto è stato chiaramente frutto di un lungo disturbo mai trattato nel modo opportuno e per questo non voglio dare la colpa a nessuno. Anzi, a volte le circostanze rendono impossibile aiutare i propri familiari proprio come in questa storia. Tra l'altro non è chiaro se Sylvie cioè Sylvia sia stata interpellata in questa storia né se sta ancora continuando il suo lavoro. Questa storia comunque è talmente assurda da far spavento. Cioè, quando per la prima volta ne ho sentito parlare non avrei mai immaginato che si sarebbe conclusa con così tante vittime. E il modo in cui si è svolto il tutto è così vicino alla realtà di ognuno di noi che fa davvero paura. Fa pensare che potrebbe succedere in qualsiasi famiglia anche la più apparentemente serena e felice. Cioè, nei casi scorsi abbiamo visto persone nate in pessimi contesti con padri e madri violentissimi alcolizzati e altro. Qui invece assistiamo all'esatto opposto. Gli Amato sono sempre stati una famiglia unita solida. Lo stesso Grant era una persona splendida fino a poco prima. Era il migliore amico di Cody, ragazzi. E a causa di una serie di piccole grandi cose tutto è finito nel peggiore dei modi. Personalmente credo che questa storia possa essere presa come un monito per tutte quelle persone che hanno un problema e non vogliono dirlo o non riescono. Non per forza si nasce in un brutto contesto per diventare un assassino e ovviamente non è detto che chiunque lo possa diventare. E credo che Grant non lo volesse nemmeno diventare. Eppure ha commesso il peggiore dei reati ed è giusto che paghi. Mi raccomando ragazzi parlate sempre dei vostri problemi costruite dialoghi con le persone e cercate di trovare sempre il modo di andare avanti. Questo è quello che mi ha lasciato questa storia e quello che ho estrapolato da questo specifico contesto. Voglio certamente sapere la vostra nei commenti. Ovviamente il titolo che ho scelto per questo video è molto riduttivo. Il motivo di questa strage non è la Camgirl diciamo che però è stata un contorno sempre presente in tutta la vicenda. Un punto fondamentale un punto di non ritorno. Devo dire che ultimamente le storie che vi racconto sono sempre più agghiaccianti e ho in programma per il futuro qualche video che sono sicuro vi farà venire i brividi. Quindi se siete curiosi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. Io comunque come al solito spero che anche questo video vi sia piaciuto ragazzi. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao! Grazie a tutti! Grazie per la visione!